Buongiorno a tutti e bentornati a Sky TG24 Business in questo 31 agosto. È una giornata ovviamente che iniziamo parlando dell'andamento dei mercati finanziari, mercati che si stanno comportando bene e stanno accelerando soprattutto in questa fase. Nonostante, vi devo dire, dati macroeconomici, ma ormai questo è un leitmotiv di cui stiamo parlando da più di due mesi, nonostante dati macroeconomici deboli, i mercati continuano a mostrarsi resilienti, a fare bene. Quindi mercati in positivo, vi ricordo che a Piazza Affari, ed è probabilmente questo il motivo per cui Milano si distingue rispetto agli altri borse del vecchio continente, se c'è una team in grande spolvero, oggi il consiglio di amministrazione su questa ipotesi, il primo passo per questa ipotesi di rete unica nel nostro paese, Anche su questo oggi a Business faremo un approfondimento. E poi il terzo fattore, il prodotto interno lordo italiano, un PIL che è in netto calo, vi faccio vedere subito il dato, del 12,8% trimestre su trimestre, quindi significa secondo trimestre rispetto al primo. Invece se guardiamo il dato rispetto al secondo trimestre di un anno fa, il calo è ovviamente più evidente, meno 17,7%, come avete visto anche dal nostro cartello, I dati hanno come fonte ISTAT, il nostro istituto statistico. Nonostante questo, nonostante altri dati che sono usciti quest'oggi, in particolare mi riferisco a questo studio di ConfCommercio, sul fatto che secondo questo report la crisi da Covid-19 potrebbe bruciare 116 miliardi di consumi all'anno. Nonostante questo, Milano fa bene e vedremo che è per alcuni titoli che si stanno comportando bene, che di fatto sorreggono il nostro listino. Andiamo avanti invece con le notizie della giornata, partiamo proprio dalla Cina, perché grandi banche cinesi stanno perdendo miliardi di dollari, si tratta delle prime cinque banche cinesi, tra cui ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China e Bank of Communication. Ebbene, questi crediti inesigibili spingono il calo degli utili, perché cosa fanno le banche? Accantonano per eventuali perdite che ci saranno da crediti che non potranno avere indietro, cosiddetti appunto crediti inesigibili. Guarderemo a questo proposito anche la situazione italiana in questa puntata di business. E poi chissà che i 90 siano i nuovi 70, perché Warren Buffett a 90 anni si mostra più arzillo che mai. Il suo fondo Berkshire Hathaway ha deciso, in questa fase di crisi, di investire in cinque società molto attive nel trading giapponesi. Vediamo se riusciamo a vedere il cartello di CNBC. Ebbene, investendo 6 miliardi di dollari. Un investimento importante che ha spinto con decisione in rialzo i titoli, quest'oggi in Cina. Poi, ovviamente, non finisce di stupire la querelle tra Cina e Stati Uniti, che riguarda TikTok. Questo perché, come sapete, gli Stati Uniti stanno imponendo alla Cina di vendere le attività che fanno profitto negli Stati Uniti di TikTok. Ma la Cina, con questo aggiornamento di una lista di cose da non fare, tra queste c'è anche l'esportazione di contenuti tecnologici, nei quali rientrano anche le attività di TikTok. Quindi, con questa nuova legge cinese, TikTok potrà di fatto vendere le sue attività negli Stati Uniti? Quindi, insomma, si mettono i bastoni tra le ruote l'un l'altro Cina e Stati Uniti e continueranno a farlo, temo, fino alla data delle elezioni americane. Vedremo come andrà. Intanto, invece, a Piazza Affari tiene Banco Timma. Il titolo è in gran forma. E tutto parte dal dossier di cui parleremo, credo, nei mesi a venire. Uno dei dossier più complessi, più strategici per il nostro paese. E dopo due anni di stop and go, vede dei passi avanti decisi. Parliamo della realizzazione di un'unica rete a banda larga in Italia per portare la fibra e dunque internet più veloce a chiunque, anche a chi è rimasto un po' più indietro nel nostro paese. Da questo parto con il nostro ospite Gianluca Codagnone, a cui do subito il bentornato a business. Grazie Gianluca per essere con noi da Fidentis. E ti chiedo subito, con questa Timma in grande spolvero, come vedete voi operatori la situazione. A te. Buongiorno, intanto. Diciamo che dopo tanti mesi di trattativa, sembra che si risolva il problema dell'azionariato della rete unica, da prima con l'entrata di un fondo piuttosto noto che ha dentro un pezzo della rete di Telecom Italia e poi con le trattative che vanno avanti con Enel Open Fiber, che come tutti sanno aveva interpreto un piano di cablatura delle case, ancorché Enel Open Fiber non si rivolga direttamente ai clienti finali, ma sia una rete, come chiamiamo noi, wholesale, cioè una rete che viene messa nelle case ma i cui operatori saranno altri. Enel Open Fiber prevedeva di affittare questa rete alle varie Vodafone o altri operatori, incluso a Telecom Italia, che ne avessero bisogno. Quindi diciamo che la questione della rete telefonica è molto complicata, è una questione veramente tecnica, perché se si va a vedere ogni paese nella telefonia ha il suo modello, non sono per niente tutti uguali. Faccio un esempio, negli Stati Uniti non esiste una rete unica, sono la rete dei vari stati, sono di proprietà di vari operatori, sono spezzettate e comunicano tra di loro, ma non c'è una rete unica. In altri paesi più simili a noi, come per esempio la Gran Bretagna, un pezzo della rete che si chiama Open Reach, ancorché sia consolidata nel bilancio di British Telecom, su quel pezzo della rete, sia per i prezzi che per il Consiglio di Amministrazione, Governance, etc., British Telecom non decide nulla. Il fatto che sia lì dentro è perché deriva dal fatto che all'inizio delle liberalizzazioni nella telefonia tutti i vecchi operatori monopolistici avevano il possesso della rete, che era unica perché l'Europa si era sviluppata così. Quindi adesso c'è il problema in tanti paesi di rivedere i meccanismi di governance e di investimento, soprattutto perché quello che si cerca di fare è di avere delle reti competitive in termini di velocità di upload e download senza duplicare o triplicare gli investimenti. Non è un design molto facile, capisco che ci siano dei tentenamenti. Io dico solo una cosa, essendo uno dei mercati di cui mi sono occupato di più professionalmente, che secondo me il vero problema della competizione sta negli ultimi 50 metri, cioè quelli che vanno dal cabinet cosiddetto alle case. Cioè tu vuoi dire dall'armadietto, quello che c'è in strada sostanzialmente, fino alla casa, corretto? Esatto, esatto. Cioè bisogna cercare di avere un design. Io non sono uno molto affascinato dalla discussione proprietà pubblica, proprietà privata, perché il problema è rendita monopolistica o no. Cioè non deve esserci una rendita monopolistica che possa spiazzare tutti gli operatori privati, che poi questa rendita sia in mano a un privato o al pubblico non fa nessunissima differenza. Non va bene che ci sia una rendita monopolistica. A questo punto la cosa che sicuramente deve rimanere in competizione sono gli ultimi 50 metri, cioè dal cabinet alle case, ai vostri appartamenti. Che poi il pezzo della rete cosiddetta primaria o backbone, cioè quella che va da Milano a Roma o quella che quando arriva a Milano si dipana nei vari quartieri, dove ci sono i vari cabinet, il tema di quella proprietà mi affascina molto meno rispetto al tema di quanti soldi debba guadagnare quella rete. Chiarissimo. E quello è il problema. Cioè nel senso per ora in Italia, tanto per chiudere il discorso, l'accesso alla fibra, per quanto si possa poi discutere di quanto è veloce, se è veloce o lenta, eccetera, eccetera, però ai prezzi più bassi d'Europa, forse del mondo, non mi viene in mente nessun paese dove costi meno che 25 euro al mese, l'accesso a linee in fibra. Quindi per adesso la competizione ha funzionato abbastanza bene, direi. È uno dei pochi prezzi, quello dei servizi telefonici, che è sempre sceso da quando sono stati liberalizzati, a beneficio dei consumatori. Si vuole toccare questo equilibrio? Io si può, spero che lo si faccia per far continuare a beneficiare i consumatori diversi decrescenti. Certo, perché l'ideale sarebbe che tutto ciò, diciamo, avvenisse a condizioni, sul fronte degli operatori sarebbe l'ideale che ci fossero condizioni paritarie garantite a tutti gli operatori che faranno parte evidentemente di questa rete unica, ma soprattutto garantire agli italiani più efficienti condizioni di utilizzo della rete unica, che poi altro non è che internet veloce per tutti, sostanzialmente. Sì, sì, naturalmente. Volevo scusa Mariangelo, volevo solo dire una cosa. Brevissimo Gianluca, grazie. Ci si lamenta tanto, bisogna sempre pensare che anche negli Stati Uniti il problema dell'ultimo miglio in fibra è presente, nel senso che anche gli Stati Uniti hanno tutto l'ultimo pezzo, o quasi tutto l'ultimo pezzo in rame. Quindi, cioè, non è che siamo soli in questa... Poi ci sono paesi che hanno fatto meglio di noi, come la Germania e l'UK, ma vabbè, c'è sempre qualcuno che fa bene. Questo, tra l'altro, era chiarissimo anche, insomma, nel tuo approfondimento iniziale. Alla fine, da questo punto di vista, non è che ci siano dei casi scuola, forse ce ne sono uno o due. Sì, i paesi del Nore Europa, lì è molto... La fibra arriva quasi in tutte le case. Esatto. Doyle, benvenuto anche a Vito Lops, del Sole 24 Ore. Devo chiedere a entrambi, perché purtroppo il tempo vola, i tempi con i dati G sono, di essere estremamente sintetici, perché volevo affrontare con voi anche il fatto che comunque le borse continuano a incamerare rialzi a fronte di dati macroeconomici, che non sono certo, diciamo, da festeggiamento natalizio. Quindi vi chiedo, come mai c'è questo, diciamo, scostamento da quello che è l'andamento bursistico rispetto all'economia? Inizio da te, Gianluca, veramente rapidissimo. Ma la domanda... Allora, diciamo che il mercato per adesso è stato sostenuto dal fatto che ci sono state delle... C'è stata una politica monetaria, ma anche fiscale, molto espansiva, come era normale che succedesse, e si spera che ci sia un recupero di utili aziendali piuttosto rapido. In questo momento è scontato che, se guardo i prezzi, si sconta un recupero già a partire dall'anno prossimo. Che questo sia possibile o meno dipenderà molto da come si riuscirà a controllare l'epidemia. E quindi vedremo. Per adesso però va così. Diciamo che il mercato, poi, se si dovesse accorgere che si sbaglia, si corregge in 15 secondi. Quindi... Sì, questo diciamo che l'abbiamo imparato. Speriamo non sia questo il caso, soprattutto che non ci si vada a schiantare. Infatti è giusto parlare di questo, perché comunque è giusto sottolineare che non sono mercati, diciamo, normalissimi questi, no? Quindi è giusto parlarne. Ringrazio Gianluca Codagnone per essere stato con noi, perché purtroppo dieci minuti passano molto velocemente. Grazie mille e alla prossima. Però su questo vorrei tornare a Vito Lops, perché Vito, tu hai scritto tantissimo su questo tema, sul fatto della Fed che sta cambiando impostazione. Da quello che emerge nei tuoi pezzi, correggimi se sbaglio, se dovessi dare la principale ragione per cui i mercati sono così scollati dalla realtà, da quello che leggo, guardando i tuoi articoli, sono gli interventi delle banche centrali. Come dire, abbiamo questi grandi clienti della pasticceria, mercato finanziario, debito prodotto dagli Stati, e quindi il mercato continua ad andare avanti col pilota automatico. È così? Sì, è così, Mariangela, perché i mercati sono sorretti, mi riferisco in particolare alle borse e alle obbligazioni, dalla liquidità enorme che le banche centrali stanno stanziando negli ultimi anni, appunto e soprattutto negli ultimi mesi dopo la pandemia, per reagire, per affrontare al meglio la situazione. È chiaro che se dovesse venire meno questa liquidità per le borse, per soprattutto alcuni titoli di cui oggi si parla molto molto bene, soprattutto i tecnologici, comunque ci sarebbero forti difficoltà. Il punto è da capire quando questa liquidità eventualmente verrà drenata, verrà sottratta dalle banche centrali e le ultime indicazioni della Federal Reserve, del suo governatore Powell, lasciano presagire che questa situazione continuerà ancora a lungo, perché sostanzialmente nell'ultima dichiarazione ha comprato tempo affinché la Fed possa mantenere i tassi bassi ancora a lungo, anche qualora l'inflazione, forza degli stimoli fiscali che stanno arrivando, dovesse ripartire. Questo meccanismo, inflazione che risale, ma i tassi della banca centrale che rimangono bassi, spinge addirittura ancora più sotto zero rispetto ai livelli attuali i tassi reali, ovvero quelli generati dalla differenza tra i tassi delle obbligazioni e della banca centrale, meno l'inflazione, e questo spinge per mancanza di alternative gli investitori a continuare a comprare in particolare le azioni e poi anche le materie prime, che da un lato offrono una copertura in caso appunto di futuro crollo dei mercati. Ma allo stesso tempo tendono ad andare sempre storicamente molto bene quando i tassi reali sono bassi o addirittura negativi. Quindi in questo momento le banche centrali stanno completamente condizionando le scelte degli investimenti degli operatori e quindi i dati macroeconomici vengono sostanzialmente ignorati anche se negativi perché si guarda esclusivamente agli stimoli. Chiarissimo, questo mi fa venire in mente due cose. La prima è come se anche quando ci sono dei titoli diciamo cari, quindi non economici, se io ho quella liquidità ci penso meno a investire in un titolo. Quindi sostanzialmente compro titoli magari anche non proprio al loro valore. E il secondo, quello che diceva Codagnone, Vito, speriamo non ci si schianti perché comunque poi il mercato quando diciamo prende, prende molto velocemente più di quanto dà. Quindi bisogna sempre essere molto guardinghi relativamente alla situazione che stiamo vivendo. Ti ringrazio tanto per essere stato con noi e continuiamo a leggerti su Il Sole 24 Ore. Grazie mille a Vito Lops. Grazie. E io passo alla terza pagina e quindi saluto il mio prossimo ospite da CRIF, Managing Director, Alberto Sondri. Grazie per essere con noi. Alberto, anche a lei chiedo estrema sintesi perché purtroppo i tempi questi sono. Però è interessante aprire con lei un altro tema che è quello dei crediti inesigibili. Li sentite nominare come NPL. Sono sostanzialmente quei crediti che la banca fa ma che probabilmente non rivedrà più indietro e quindi diventano carta straccia. Per questo vengono chiamati così sostanzialmente. Crediti deteriorati anche. Partiamo proprio da un grafico che lei mi ha inviato perché ogni tanto facciamo il punto qui su quello che sta accadendo, come sapete. Questi sono i crediti deteriorati o NPL in miliardi di euro. È evidente un miglioramento, evidentissimo direi, dal 2015 ad oggi. Questi includono, mi correga se sbaglio Alberto, anche gli UTP, la parte in grigio che state vedendo. Cioè crediti che la banca sta ancora cercando in qualche modo di ottenere, che spera di ottenere, corretto? Mi dica un po' e ci racconti in un minuto e mezzo o due qual è la situazione. Allora, la situazione, come ha rappresentato nel grafico che abbiamo condiviso, è una situazione che ha un, diciamo così, conferma il trend di riduzione dello stock degli MPI, dei crediti deteriorati, un trend di riduzione che è iniziato nel 2016. Oggi, a fine giugno, abbiamo uno stock di crediti deteriorati nei bilanci bancari nell'ordine dei 132 miliardi di euro di valore nominale. Perché questo trend di riduzione anche a fronte del Covid? Allora, i fattori che hanno e che stanno portando a riduzione momentanea dello stock degli MPI sono tre. In primis, diciamo che il deterioramento del credito prevedibile a fronte dell'emergenza sanitaria e quindi della crisi economica collegata è stato contenuto in maniera significativa dagli interventi governativi in materia di sostegno dei redditi e di sostegno del credito, come le moratorie e i finanziamenti agevolati con la garanzia statale. In seconda istanza, sono proseguite le operazioni di smobilizzo, le operazioni che prevedono quindi che questi crediti passino dai bilanci bancari ai bilanci di operatori terzi attraverso strumenti di cartolarizzazione e in questo ambito, nel primo semestre del 2020 sono state perfezionate operazioni per circa 18 miliardi di euro di controvalore nominale e le hanno fatte da padrona AMCO, la Bad Bank italiana e la cartolarizzazione, diciamo lo strumento di cartolarizzazione GAX che prevede una garanzia statale. e in terza istanza abbiamo il ruolo dei recuperi extra giudiziali, cioè tutti quei recuperi che sono, diciamo così, perfezionati attraverso un accordo bonario tra parte creditrice e parte debitrice. Perché solo, diciamo, i recuperi extra giudiziali vengono menzionati? Perché il decreto cura Italia ha bloccato di fatto gran parte dei provvedimenti giudiziari, anche in particolare ha bloccato tutte le esecuzioni immobiliari che hanno ad oggetto gli immobili ad uso abitazione principale dei debitori. Questa quindi la situazione. Secondo lei, Alberto, questa domanda proprio mi risponda pure in breve. Il Covid-19 ha accelerato o ha diminuito il problema? Perché dal grafico che abbiamo visto sembra proprio un cammino comunque discendente nonostante Covid, quello degli NPL. Mi sto sbagliando? Sì, di fatto diciamo che c'è mascherato un problema. Nel senso che ad oggi il deterioramento del credito che era previsto e prevedibile a fronte della crisi economica come detto è stato mitigato dalle iniziative governative a sostegno del credito. Ma sono interventi temporanei quelli delle moratorie o della finanza agevolata in quanto al termine delle moratorie e al termine della finanza agevolata strumenti che entrambi vanno in direzione di supportare la liquidità e quindi il fabbisogno di liquidità di breve termine delle famiglie e delle imprese al termine di questi provvedimenti riavvieranno i piani di rimborso di questo credito. Quindi oggi sono sospese le rate dei finanziamenti oggi si è immessa nuova finanza sul mercato garantita con dei piani di preammortamento che prevedono il ripagamento a data l'avvio del ripagamento a data nel momento in cui però termineranno questi due provvedimenti ovviamente ci sarà da affrontare una sostenibilità finanziaria di questi crediti e quindi prevediamo che ci sarà un incremento significativo purtroppo dei crediti deteriorati soprattutto se la ripresa economica non avrà avuto il suo corso. chiarissimo le faccio un'ultima domanda invece sempre riguardante la nostra situazione spesso si legge come il problema sia che si da una parte tu ripulisci il bilancio delle banche quindi diciamo le banche hanno una pancia più pulita perché comunque dal grafico evidente parlano i dati questi crediti riescono a cederli dall'altro però riempi la pancia di altri operatori quindi il rischio è che diciamo questi crediti deteriorati possano essere imbellettati subire proprio un'operazione di make up di trucco ed essere magari venduti come prodotto finanziario che offre rendimenti allettanti secondo lei c'è questo rischio? Sicuramente il credito non si risolve quindi il debito non si risolve con la cessione la cessione è uno strumento per ridurre l'importo dei crediti deteriorati nei bilanci bancari ma di fatto per l'economia reale la cessione non porta a nessun effetto trasferisce solo la titolarità del credito quindi sicuramente oggi in circolo ci sono ancora oltre 300 miliardi di crediti deteriorati in parte nei bilanci bancari in parte su investitori terzi che ovviamente acquistano questi crediti anche diciamo così per il tasso di interesse che generalmente il tasso interno di rendimento che generalmente questo tipo di operazioni porta quindi diciamo il problema non si risolve ma rimarrà da risolvere per i prossimi anni sì sì molto chiara la sua analisi grazie dunque ad Alberto Sondri per essere stato con noi grazie mille anche per la chiarezza Alberto alla prossima grazie intanto io prima di lasciarvi volevo dirvi sapete qual è il peggiore dato sul prodotto interno lordo nell'area euro non è il nostro è quello della Francia nel secondo trimestre 2020 l'Italia in generale ha fatto peggio della media di Eurolandia ma meglio dei francesi per il prodotto interno lordo secondo i dati Istat nel complesso perché il PIL della Francia diminuisce sostanzialmente del 13,8% non del 12,1% quindi questo dato anche a modo di curiosità lo volevo sottoporre so che sento la sigla che incombe però vi volevo lasciare con questo tweet dell'economista premio Nobel Paul Krugman che fa i conti alla situazione svedese vi ricordate immunità di gregge la Svezia comunque non ha bloccato la sua economia ebbene il PIL è in declino comunque dell'8% ma soprattutto il bilancio sul fronte delle vittime si sta aggravando in Svezia quindi non lo rende proprio un caso scuola e oggi Paul Krugman riflette proprio su questo tema sempre partire da numeri e da dati io vi lascio qui vi ringrazio tantissimo per avermi seguita e vi lascio all'edizione delle 12 del nostro telegiornale noi ci ritroviamo più tardi e vi lascio qui